In nome della legge e con i poteri conferiti dallo Stato, vi dichiaro uniti in matrimonio. L'italiano, le persone, mi ringrazio e la mia figlia, abbiamo i bambini qui, quindi i miei bambini sono andati alla scuola. Mi sento bene, mi sento una balanza. La pace, do you take power is your husband? Yes, ma. I'm so happy because I came here, the Italian people, they welcome me and my wife. We have children here, so my children are going to school and I'm still working here in Italy. I'm so much happy being here in Italy. I love to be here and I love to live my life here with my family. Tutu non uguale, you understand, some are very good, some are no good, that is it here in Italy. I feel happy because I'm doing my wedding today. I feel fulfilled, I feel okay, I feel balanced. Your daughter will be Italian tomorrow. Yes, yes, yes. They are already Italians. Per noi è stato anche poi un sogno, ci siamo sentiti un po' wedding planner. Finalmente la possibilità di realizzare un sogno altrui, che era quello di vederli contenti. Poi alla fine è questo il nostro scopo, il nostro obiettivo, quello di renderli felici, di permettere, come dire, l'inclusione in un territorio che per loro è tutto da scoprire, da esplorare. Allora, 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 allora Grazie a tutti.